Giovedì 8 gennaio, San Lorenzo Giustiniani. È l'ottavo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 357 al termine. Il sole sorge alle 7.50 e tramonta alle 16.48. La luna si leva alle 20.25 e tramonta alle 9.19. Sopra la scala del Palazzo Ducale vengono sistemate le due statue dei giganti, magnifica opera di Jacopo Sansovino. Le previsioni per domani. Sulle zone montane parzialmente soleggiato, salvo passaggi di velature e addensamenti un po' più consistenti sulle dolomiti e in serata. In pianura, probabili foschie, nebbie e nubi basse, in parziale attenazione nelle ore centrali. Precipitazioni assenti su buona parte della regione, salvo probabilità in aumento fino a medio-bassa sulle dolomiti di deboli precipitazioni con limite delle nevicate in rialzo fino a 1.600-1.900 metri. Temperature in aumento in quota, variazioni a carattere locale altrove con prevalente diminuzione in pianura.